Pare che nell'archivio della base militare di Patterson ci sarebbero dei report segreti di presunti avvistamenti alieni, contanto anche di foto. Secondo testimoni oculari che avrebbero anche visto i presunti alieni, li descrivono come esseri assai simili alle persone, ma premi di beni, con una statura inferiore. Uno dei presunti testimoni era anche lo scienziato Robert Sarbeck, che sarebbe stato chiamato sul campo ad esaminare un UFO precipitato. Egli affermò che i corpi alieni erano estremamente leggeri e che erano strutturati come certi insetti. Molti testimoni oculari avrebbero confermato queste testimonianze. Grazie Grazie